Con la quarta e penultima prova del campionato italiano Xai Karting, disputata sulla pista Sette Laghi a Castelletto di Branduzzo, provincia di Pavia, nella tappa più a nord d'Italia, dopo le prime tre prove di Sarno, Ugento e Siena, il rush finale della serie tricolore ha vissuto un weekend particolarmente emozionante, con tanti protagonisti in lotta per i titoli di categoria in KF2, KF3, KZ2 e 60 Mini, oltre alla 60 Baby, per la terza e ultima gara del tricolore riservato alla classe dei più piccoli. Stiamo rispettando tutti i parametri da noi imposti, in verità è questa parte finale del campionato, ci sta dando molte soddisfazioni perché accresce la grande competitività nelle varie categorie per l'acquisizione delle titolazioni, c'è molta equivalenza fra i partecipanti e questo non può che fare bene a questo campionato, perché nessun titolo è stato già assegnato, perché non c'è stato un vero mattatore, ma ce ne sono stati diversi e questo rende ancora più accattivante tutta la manifestazione, tutto il campionato. Noi come abbiamo sempre sottolineato, è da quattro anni che siamo presenti al campionato italiano, con una struttura ufficiale, principalmente dedicata ai giovani, sta andando molto bene, vediamo che tanti, al di là della nostra presenza ufficiale, quindi con una forbice che può andare da 5, 6, fino anche a 10 piloti, come abbiamo avuto nelle prime gare, ci sono tantissimi piloti che si avvicinano al campionato italiano che vengono dalle nostre categorie promozionali e questo è un percorso ideale per loro, perché iniziano con delle categorie monomarca in giovane età, con le categorie proprio formative, la 60 e la 100, e poi possono approdare a un campionato nazionale dove confrontarsi con la tecnologia libera e con un contesto veramente molto competitivo. Ma KF2 sta andando abbastanza bene, siamo in lotta per il campionato e diciamo che la cosa ci soddisfa. KF3 purtroppo non abbiamo un gran numero di piloti, però a livello di prestazioni ci siamo, adesso verrà quando ci saranno anche i piloti per poterlo fare. Siamo un'azienda giovane, in un certo senso, anche se l'Area Conte esiste da 1993, però siamo comunque ancora un'azienda giovane, ci piace crescere con i giovani, con le categorie dei giovani, che rappresentano comunque il futuro, il bacino futuro del karting e logicamente anche dell'automobilismo, perché poi molti di questi ragazzi col tempo cresceranno verso altre discipline del motorismo. Sì, è un finale di stagione intenso, perché siamo qui oggi a Castelletto per giocarci l'italiano in due categorie. Sarà, secondo me, guerra in senso buono fino a Ortono, è giusto che sia così, i piloti sono forti anche negli altri team, quindi è un bel campionato italiano. Guarda, una decisione proprio dell'ultimo minuto. Kart è ritirato mercoledì, montato in pista proprio poco prima delle prime prove libere. Per noi è un esordio sia nel campionato italiano XAI, sia col materiale che stiamo utilizzando, quindi non posso che essere soddisfatto. Quarto tempo in qualifica, due volte terzo nelle due mani di qualificazione, sicuramente è positiva l'esperienza. Primi titoli virtuali in KZ2 e 60 Baby. Dopo questo appuntamento e prima dell'ultima tappa del 30 settembre a Ortona, un primo titolo virtuale è già andato ad Alessandro Giulietti, in trepide TM, in KZ2, grazie ai punti pesantissimi conquistati dalle pilota di Osimo, in provincia di Ancona, a Castelletto con la vittoria riportata nella prima finale e poi con il secondo posto ottenuto in finale 2. Per la 60 Baby, la categoria più piccola per bambini dagli 8 ai 9 anni, si è trattato invece della terza e ultima prova, dopo le gare di Ugento e Siena. Qui il titolo ufficialmente è sospeso in attesa dell'esito del doppio appello presentato da Fusco, contro un'esclusione combinata al concorrente napoletano, non solo nella scorsa gara di Siena, ma anche in questa gara di Castelletto. Nonostante questi due appelli, anche se andassero a suo favore, il titolo è virtualmente nelle mani del siciliano Salvatore Corso, top kart LKE, a Castelletto ottimo secondo in finale 1 e quarto in finale 2, a cui può sommare i punti della vittoria e del secondo posto delle due finali della scorsa gara di Siena. In KZ2 successi per Giulietti e Celenta. Nella prima finale di KZ2 subito al comando si è portato Alessandro Giulietti, intrepite TM, che ha vinto in seguito sul traguardo da Massimo Mazzali, Iesolo TM. Terzo ha concluso Nicola Gnudi, CKR TM, ma per una penalizzazione di 10 secondi per partenza anticipata ha dovuto lasciare la terza posizione a Lorenzo Marcucci, Zanardi TM. Non poteva andare che meglio, dopo il secondo tempo in qualifica e le vittorie di entrambe le mance di ieri, ho cercato di partire al meglio e di tirare da primo l'ultimo giro per cercare di staccare Mazzali, che era dietro di me, perché ho visto tante, il primo giro è uscito, perciò ho cercato in tutti i modi di andarmene via. Non ci sono riuscito, abbiamo fatto una gara a due, sempre incollato a me, per fortuna sono riuscito a tenerlo dietro, a vincere una gara, è andata benissimo. Penso che anche a livello di campionato dovrebbe aver fatto un bel salto avanti e non so se già possiamo festeggiarlo. Nella seconda finale è stato Francesco Celenta, B-REL TM, a involarsi verso la vittoria dopo la partenza in pole position per la griglia invertita di gara 2. In gara 1 si era piazzato ottavo. Alle spalle di Celenta ha concluso Giulietti e il francese Clemenda Silva, Praga Vortex, del team DB Motorsport by Praga Italia, risalito molto bene dal nono posto di gara 1. Il rivale di Giulietti in campionato, Massimo Dante, CKRTM, è stato costretto a ritiro in gara 1, conquistando poi il quarto posto in gara 2, dopo una rimonta dal fondo dello schieramento. Sì, è stata una gara dura, partita da lontano con molte difficoltà, però alla fine ci siamo sotto questa bella soddisfazione dopo l'amarezza di Sarno, nonostante che siamo stati lì leader nel campionato, che purtroppo è andata la male alla fine, qualche contatto di troppo. Sì, è andata bene, ci siamo riusciti a ripetere, anche le mance dure nonostante l'inversione della griglia. Un'ottima partenza, sono sfilato subito quarto, poi il terzo posto, poi ho visto la penalità da Falciti per la partenza anticipata e non ho voluto rischiare, pensando un po' al campionato per assicurarmelo, che credo dovrebbe essere vinto matematicamente, quindi un buon secondo posto che conferma un'ottima stagione, direi. In KF2 duello al vertice tra Moretti e Pezzolla. A vincere la prima delle due finali in KF2 è stato il capo classifica Andrea Moretti, Cosmic TM, che si è imposto su Alessandro Pandolfi, Intrepid TM e Nicolo Balsamo, First BMB, mentre l'altro protagonista del campionato, Gianni Vigorito, Birel BMB, è stato costretto subito a ritiro per un problema tecnico alla candela. Decisamente, decisamente, questa è stata bella. Non me l'aspettavo neanche io, volevo fare una prova, una pazzia, mi è uscita in partenza, passando largo, ritrovandomi quarto, quinto. Avevo detto che avrei fatto una pazzia, l'ho fatta e mi è riuscita anche. Dedico questa vittoria qua a una ragazza speciale, a mia mamma, che quest'oggi compie gli anni. A esprimersi ancora ai massimi livelli nella seconda finale è stato invece Federico Pezzolla, Cosmic TM, di nuovo alla ribalta e sul gradino più alto del podio al termine di una bella gara. Pezzolla in gara 2 ha preceduto con un buon margine Marco Moretti, Cosmic TM, e il sorprendente giapponese Fuma Horyo, Super Win Force Parilla. Vigorito ha concluso al quarto posto dopo una rimonta dall'ultima posizione in griglia. Andrea Moretti ha chiuso all'ottavo posto. Sì, ma è sempre con grandissime sorprese, perché ogni gara diventa sempre più difficile arrivare a vincere, diciamo. Quindi sono sempre più soddisfatto, adesso penserò a vincere il titolo. Anzi, ci proveremo, dai. Molto interessante è anche il risultato di KF3 con due giovani al debutto in campionato e in finale 1 giunti ambe due a podio, come il toscano Diego Bertonelli, delle team Depp Competition, che ha vinto la gara, e il romagnolo Mattia Drudi, delle team Drumelkart, terzo alle spalle del leader di classifica Alessio Lorandi, che in questa occasione si è piazzato secondo tutti e tre su Tonic Kart Vortex. Sono contentissimo e ringrazio subito la Depp, Massimo, Luca, che mi hanno aiutato, il mio motorista, il mio meccanico. Sì, è stata dura, soprattutto con Lorandi, che su qua ho vinto anche il campionato Master, quindi sapevo già che anche se il campionato italiano era molto difficile. E quando ho visto che potevo entrare, che avevo un po' di più, sono entrato. L'ho cercato di portare un po' fuori perché sapevo che dopo quando lui era a scia facevo fatica, mi veniva a prendere, allora ho visto che perdevo in metà parte della pista e nell'altra guadagnavo, allora l'ho passato un po' difficilmente, però dove perdevo, quindi almeno avrei guadagnato qualche metro dopo. L'epilogo della seconda finale ha premiato invece Alessio Lorandi, andato ben presto in testa e poi vincitore con un buon margine su Bertonelli e Danilo Albanese, Energy TM, quest'ultimo ottavo in gara 1, ma scattato dalla pole position per l'inversione della griglia di partenza in gara 2. Sì, dopo il secondo posto in gara 1, gara 2, sono uscito a sfilare bene, poi seguivo gli altri piloti, poi ogni due giri ripassavo, poi alla fine è stato molto complicato tenere botta a Bertonelli perché andava molto forte, mi pressava tanto, vado a dare meglio di me, alla fine sono riuscito infatti a fare il miglior tempo e i migliori giri, quindi sono molto contento e in campionato siamo messi bene, è un primo e ci spetta l'ultima prova a Ortona e cercherò di andare in massa anche lì. Nella 60 mini detta legge Leonardo Lorandi. Nella 60 mini la vittoria in gara 1 è andata l'americano Logan Surgent, Tony Kart LKE su Remigio Garofano, Top Kart LKE e sulle leader di classifica Leonardo Lorandi, Tony Kart LKE. Leonardo Lorandi si è reso poi protagonista nella seconda finale di uno spettacolare sorpasso a due curve dal termine, infilando all'esterno ben tre avversari in un sol colpo, il cieco Lukas Podobki, Virel LKE, Garofano e l'ucraino Makar Mizevic, Top Kart LKE, che sono terminati nell'ordine alle spalle di un raggiante Leonardo Lorandi. Sì, bellissima. All'ultima curva ero quarto, sapevo che ne avevo di meno in uscita dalle curve, allora l'ho presa bella larga e ho accelerato prima della curva. Sono uscito veramente fortissimo e sono riuscito a fregarli tutti e tre e la Baby Race ho trionfato ancora. Nella 60 Baby Corso ha pensato al campionato. Nella terza e ultima prova della 60 Baby la vittoria nella prima finale è andata a Giuseppe Fusco, Lenzo LKE, con il leader di classifica il siciliano Salvatore Corso, Top Kart LKE, saggiamente buon secondo e Alexander Zeilinger, Top Kart Parilla, terzo. Nella seconda finale ha vinto Gabriel Costa, Top Kart Parilla, su Zeilinger e Fusco. Corso si è accontentato della quarta posizione che gli ha permesso la vittoria, per ora virtuale, del campionato. Prossimo appuntamento del campionato italiano XI Karting, 30 settembre, circuito internazionale d'Abruzzo, Ortona, 60 Mini, KF2, KF3, KZ2 Pro Driver.